salve a tutti i ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo con il gruppetto dei sudi c'è pure qua davanti con l'ipermotard stefano peruggini tanta roba mi viene l'ha fatto sapere e ce ne andiamo verso marta capodimonte con niente poco di meno che stefano peruggini vediamo partiamo e si va tra l'altro oggi dopo le dolomiti dal rientro dalle dolomiti è il primo giro serio diciamo che c'è che me faccio in moto perché poi l'altro sono stati tutti qua nei dintorni marco de claudio noi abbiamo la moto ancora leggermente fredda quindi piano piano con delicatezza la andiamo a scaldare via sosta benzina e si riparte piano fatto e si va a cannone qua sulla cimina mamma mia sta strada pure raga mamma mia bello 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 ma ma Grazie a tutti. Ora ce ne andiamo, non ho capito se a Marta o a Capodimonte, franzetto fuori, poi si ritorna. Tornando, andiamo qua tutta serie di curve. La signora che coglie le castagne, chi è? La signora che coglie le castagne, sono buone le castagne? La signora che coglie le castagne, chi è? 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 Un altro gruppo di motociclisti qua. La signora che coglie le castagne, chi è? 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 Abbiamo passato da poco di turbo E ora siamo quasi arrivati Non manca tantissimo Dove stiamo andando ragazzi? Andiamo giù Comunque ragazzi Vedere un pilota che ha corso nel mondiale di MotoGP Minchia Quanto cazzo cammina Perugini raga? Mamma mia Cioè è mostruoso Tipo me lo ricordo perché vabbè a parte che è del paese mio Ma poi quando ero piccolo e seguivo la MotoGP Lo seguivo parecchio Perugini 125 La bambina che si tappava le orecchie Bimba cattiva Questo è un suono Non è il rumore Questa è una sinfonia Poi tutti educati Quindi sono quanti siamo oggi? Cinque? Uno, due, tre, quattro, cinque e sei Sono sei archetti Un esagono di archi Sinfonici Ve lo faccio godere un po' Il sound di questo Ducati Un esagono di questo Ducati Ed entriamo a Chiapodimonte Come scoppietta E c'è ancora lo scarico originale Madonna Senti come scoppia Come scoppia Come scoppia Ci avevo messo un attimo Niente culi Niente culi Ah ragazzi Pranzetto fatto E adesso si ritorna a casa Ci facciamo qualche altra curvetta E poi destinazione home Ragazzi anche per questo video è tutto Io vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un like E commentare qua sotto Per supportare il canale Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao